Oggi è stato di giorno, quando è accaduto un'acqua. quando è accaduto quello che è accaduto a te nulla però dove si trova? qual è la tua cosa? la mia stavo considerando quella di Genova non sapevo che era la mia sì lo sa ho sentito quello che ti diceva dubita che tu abbia sempre stato dentro o abbia fatto qualcosa per impedirti di vendita non mi interessa la faccia di vincente però mi interessa non è più e credi che io non abbia sequestrato è il genere che mi spazza bisogna parlare ai tempi della scuola per l'emozione soprattutto i carichi come? voglio dire al posto mio come ti libereresti di David? lo sapevo se io volessi liberarmi di David l'inviterei a un cocktail al circolo è tutto uguale E' sentito cosa ti diceva a proposito di... Se furge la mamma Mario... A dirti la verità? No! A meno che... La stagia è il stampente... E dove lo mettere? Prende il blocco... Cos'è più che la stagione... Che c'è lì? Noi! Allora convenuta, David mi sono andata alla porta e io mi attirei lentamente verso l'impresa per i cerchi, poi farei i saluti più tenevoli e forse adesso.